Vieni Gesù, luce del mondo. È questo il titolo scelto quest'anno per il suggestivo evento che, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Bussarsizio, nella centralissima piazza Santa Maria, ha visto protagonisti dell'ormai tradizionale presepe vivente oltre 200 scolari della scuola primaria Chicca Gallazzi, che si sono esibiti guidati dalle insegnanti. Attraverso la recitazione, il canto e l'illuminazione, con questa speciale sacra rappresentazione l'obiettivo dei promotori è stato quello di ricordare a grandi e piccini, nella frenesia dei giorni di festa, il senso vero del Santo Natale.